Per favore, posso vedere i due modelli in vetrina? Ecco qua, blu o bianco Lipizzan. Mmm, mi piacciono! Vuole provarli? Grazie, sa, devo farci parecchia strada. Allacci pure. È il numero giusto? Perfetto! 107! E nella nuova Peugeot 107 Superga ci sono gli interni griffati, il clima, il navigatore, la dock station! Scopri anche Peugeot 107, con tasso 0 e Taiga 3 74%, è tua da 7900 euro con clima e servo sterzo. Scade il 30 giugno. Info su Peugeot.it